Buongiorno, ci troviamo a Ostuni, presso lo Stuni Palace, ristorante San Filippo e vi presentiamo i nostri piatti tipici che noi proponiamo nel nostro ristorante e che oggi guardiamo insieme a voi. Adesso passiamo a preparare la cernia con i maltagliati, un sugo, un ragù di cernia con i maltagliati. Questa è una cernia pescata nel nostro mare, è locale e quindi ha un sapore particolare. Adesso passiamo agli ingredienti. Chi ci vuole? Naturalmente la cernia, pomodori a pezzetti, passato di pomodoro, aglio, pepe, prezzemolo e sale. Mettiamo l'olio in una pentola, facciamo scaldare un po', saranno 4 cucchiai per due persone. A fiamma non molto alta, prendiamo l'aglio, mettiamo l'aglio qui, poi prendiamo la cernia e gliela mettiamo insieme per non far bruciare l'aglio e la facciamo soffriggere. Mettiamo un po' di sale per insavorirla, una punta anche di pepe e una foglia di prezzemolo intera che poi la dobbiamo togliere. La rigiriamo, appena soffritta, adesso ci mettiamo un po' di pomodorini a pezzetto e un ciliegino che va benissimo. Appena soffritto il pomodoro, saranno 5 minuti, passiamo al passato di pomodoro. Abbiamo messo il sale, il pepe e il passato di pomodoro, abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere per mezz'ora. Intanto andiamo a preparare i maltagliati. E' una farina di grano perché ancora noi qui abbiamo la fortuna di avere un mulino che ancora funziona. E questa è una farina di grano duro adatta per fare questa pasta. Adesso la sta tagliando. E i maltagliati sono pronti, adesso li andiamo a cucinare. L'acqua è già salata, adesso andiamo a mettere i maltagliati. I maltagliati hanno un segreto, come iniziano a bollire bisogna tirarli fuori. E andiamo a saltare nel sugo che abbiamo già preparato. Adesso i maltagliati sono pronti, li scoliamo. E li mettiamo in questo sugo che abbiamo già preparato. Li saltiamo. Li teniamo qualche minuto. Che deve risultare un sugo molto premoso. Adesso andiamo a impiattare. Una spolverata di prezzemolo. E il piatto è pronto. E il piatto è pronto. Grazie a tutti.